Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Scusa, mi so che erano delle impappabili fighe per voi, eh? Va bene, va bene, ma è ok, ci si diventano. Tulli, un po' di nazzola. Ah, che ridere, cazzo, che ridere, scusami. Non sono così per il content, Rolo, assolutamente. Andiamo, andiamo, laga, andiamo. A me questo posto mi stava facendo inghiaccare. Allora, esplode tutto! Oddio! Oddio, potrebbe esplode ancora di più! Fermi tutti! Oddio, quanti sono? Oddio, buono, 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 buono! Ancora tre spin! Oddio! Oddio, 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 oddio! Oddio, bello, bello, altri 50 euro! Oddio, dammi un altro wild! Oh, mettimi qualcosa di buono, chiudimi dei simboli, le pistole, no, niente. Belli però, belli, madonna! Continua a salire, dammi l'ultima, dammi l'ultima steccata, dammi l'ultima steccata potente! Oddio, eccola, eccola, eccola che è esploso tutto con 24 euro! Ne ho presi 5 e 75! È esploso tutto, cazzo! È esploso tutto, cazzo! Perché ho passato, cazzo! Stavo con 6 sulle site! No, BJ, che li splitto, no, BJ, che li splitto, li splitto, sono tutto fuera! Cazzo, poteva darmelo perfetto, va bene anche così, però va bene anche così! Mancava un asso di fiori! Sì, vedi! E chi è? Dai, non siamo ancora a galla! Se la tenevo a 6 sulle site! Ah, ho capito, ma c'è, sono arrivata io! Sono arrivata io! Grazie, Dante! Ma bella, Dante! Dai, mi addiesi! Aspetta, aspetta, aspetta! Mi addiesi? Vabbè, troppo semplice! Troppo semplice! Troppo semplice! Troppo semplice! Troppo semplice! Sì, ragazzi, ma non vedo ancora la chat lodarmi per il vi arrivo per questa vincita, ragazzi! Non vedo ancora la chat che mi loda! Dai, per favore, stiamo giocando, non stiamo facendo... Siamo primi, siamo primi! Guarda il cucciolo! Guarda il cucciolo! Guarda il cucciolo, esploso, no! Vai Capru, vai Capru, vai Capru! No, è lo scatto, ultima, con Maronne! No, te... Vai Scacu, guarda lo Scacu! Anzalus! Scacu, la culpa, la culpa, la culpa, Capru, la culpa! Ok, l'ha tenuta, l'ha tenuta! No, 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 c'è il 2 che l'ha superato! Va bene, aspetta, sta recuperando, sta recuperando, Capru! Lo Scacu! Lo Scacu! Scacu, 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 Scacu! Eh, guarda, però perde il suo culo, va sempre Scacu! Oh, è ancora primo, è ancora primo! Scacu nella prima curva! È decisivo! È decisivo! È decisivo! Abbiamo vinto! Scaccomatto! C'è non è che a breve, signori, attenzione! La storia! Mamma mia, te l'ho detto che bisognava puntare su Scacu! Oh! Hai visto, Capru? L'avevi detto, vero? L'aveva detto, signori! Lo Spirito Santo, tre, la Trinità! Ci credi a queste cose, Capru? Sì, ci credi, ma io credo non lavo! Capru, questa è una delle... Oh, oh! È perfetto! Yes! Cazzo, non è perfetto, però è buono! Sarà perfetto, quanti soldi? Sarà perfetto, quanti soldi? Bravo cucciolo, bravo cucciolo! Madonna, sarà perfetto, quanti soldi? Va bene però, si risale, dai! Dai, cucciolo, torniamo allo start! Torniamo allo start! Torniamo allo start! Torniamo allo start! Oddio, sono incazzato come una bestia, ho donato 6.000 bits per farmi tuecare da una figa e niente! Mi, tu è chi te? Bro! Per 6.000 bits ti twerco anche io! Però, devi dare 6.000 bits anche a me, perché io valgo meno della figa, bro! Cioè, la figa tu che hai donato i soldi era pure scammato! È giusto che tu paghi uno che ti offre un servizio fatto bene, che non ti... Oddio, cosa sta bene? 얼ation Sėy... Sėy... No no Gab, a me queste cose non mi piacciono disattivare gli alert, no, le cuffie non me le metto a cu**o dai, ma poi io 100 euro e vado a scartare cazzo fa, sei ricognito, peggio povero gabrone, t'hanno dato del fallito no raga, non posso andare su, vado sempre sul verde no rondo team, vado sul, su lega nord team lega nord team grazie david grazie warrior david, lo sento perchè non lo cambi mai? perchè ecco, sento perchè non lo cambio, per questo perchè mi da emozioni, cazzo, lega nord team, bro vedete perchè non lo cambio, cazzo ma va bene, prima c'era 200, ma cazzo so che è difficile, so che è difficilissimo un bel 50 che è un 350, sarei più utentissimo se no almeno un per 185 che non per 25 vado un po' in profit almeno quindi voglio lo start poi vabbè c'è il 700 che è leggendario bello, 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 bellissimo, bellissimo yes, 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 yes cazzo ma che profit cazzo ma che profit, porco dio bello, bellissimo, cazzo ma cazzo stavamo nel pozzo sono ora addoppiato lo start stavo nel completo pozzo raga stavo nel completo pozzo, cazzo stavo nel porco dio di pozzo più totale oh blackjack bello però colore bro bello, 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 bello vabbè ma troppo semplice bro ma troppo semplice scusami bro ma c'è anche red ma che cazzo dici raga lo start è 230 lo start è 230 raga lo start è 230 ma che cazzo dite caldo troppo caldo brusto senza maglietta troppo caldo bro sto senza maglietta come faccio secondo voi ad acquistare la forza fisica? ah guardate qua ah comunque sono bello in forma raga bello in forma sono assurdo bro merda mod cambiatemi il titolo ho vinto 30k start 1000 ho vinto 30k start 1000 ho vinto 30k start 1000 ho vinto 30k bro bro Nooo! Easy La chat destra è molto... Ah, non lo scommetto? No, ok, easy bro Togli la chat... la chat della vittura Come si toglie? Così? C'è una abbastanza... No, ma anche il telegram di Eddie Biff, bro, sembrano le vecchie al bar che sparlano di Ocane Ti giuro, bro, il telegram di Eddie Biff, bro, sembrano le vecchie al bar che sparlano Ma poi per cosa sparlano, bro? Li pagano per sparlare? Non è che sparlano, no, sparlano esagerato Ma ma no, insultano tutti Eh, insultano un po' tutti, bro Ma non è il tuo, io parlavo di quello di Eddie Guardi, però c'era Joey che diceva Joey diceva Community di Vaion pessima Cioè, ragazzi Mi chiamava 1.00 Un 1.00 deve cacciarmelo prima o poi Ok, easy, 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 easy 644 di saldo prelevabile Easy, easy, easy Scusatemi, se io provo a fare preleva 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 Eh, zona calda Sei un grande ghettino Zona calda ma io non mi fido più di niente Scusatemi Guarda va che schifo Guarda va che schifo 100, 100, 100, 100, 100, 100 AAAAAAAAAAAAAAAA Sei un grande ghettino Yes Come on cucciola Come on Ma con che giro del mondo c'è andato su quel 100x? Ascoltami e apri una sito di Anchero Coco e osserviamo insieme la bellezza Sei un grande ghettino senza tempo Ha paura Oddio ma che ha fatto? Ma che ha fatto? Ma che cosa ha fatto? Ma con la calamita porco dio l'hanno tratta verso il 100x Ma che cazzo dici Bru? Abbiamo divisi Mamma mia avrei pianto Cos'è bro? Eh il pesce d'oro esce una volta tipo su 100 Pensa 4.000 adesso così Con 3 euro No ma che cazzo